FUN DABBERS All'inizio indosso un maglione pesante e un passamontagna per combattere Per poi passare a una tuta poi per... adesso vado in manicomio All'inizio, questo ho già finito il video All'inizio indosso un maglione pesante e un passamontagna per combattere per poi passare a una tuta aderente con texture ragnatela grigia in rilievo e occhi a forma triangolare Ehi ragazzi, guardate, ho trovato questo credito Questo credito? Io... Oggi, boh... Forse sono un po' troppo stan... Caro Babbo Natale, grazie per avermi portato un... Portato la ma... E sai che il mio padrone di casa non ti lascerà vivere... Non ti lascerà, perché lascerà, lascia... Contiene anche la sua tuta, che è simile alla versione americana ma con occhi più... Ma con occhi più su tu? Questa volta un motociclista di nome Takuya... Anche se questo spa... Anche se questo qua ne me mi mangio le parole...